La Digital Smart è figlia della quarta rivoluzione industriale con l'obiettivo di fornire tutte quelle competenze necessarie per lavorare nell'industria 4.0. L'obiettivo era una provocazione perché nel distretto produttivo nostro, pesarese, in realtà in tutta Italia, c'è un grosso problema per rintracciare le risorse umane altamente specializzate e noi siamo una scuola che fa questo. Avevamo bisogno di parlare con gli imprenditori e capire quali sono le problematiche, gli argomenti che loro interessano di più, le dinamiche, perché vediamo che non è sufficiente formare bene una persona ma ci sono anche altre sfumature. Oltre a questo si è persa un pochino anche la fiducia negli enti di formazione come noi e quindi abbiamo anche cercato di saldare un po' il rapporto per capire dove possiamo arrivare, cosa possiamo fare noi per loro. E credo che l'incontro sia stato molto molto proficuo da questo punto di vista. ETS Tecnologie Made in Italy si apre ai futuri iscritti dei corsi di alta specializzazione post diploma nelle marche e lo fa con un calendario flessibile su tutto il territorio regionale. Gli ITS sono nati quasi 15 anni fa, si chiamano istituti tecnici superiori, adesso è stato aggiunto il termine Academy per rendermi un po' più belli e perché poi in tutti questi anni la gente non ha mai compreso il valore. Sono stati anche poco pubblicizzati dal ministero e hanno incominciato un po' a decollare dopo che il governo Draghi ne parlò ampiamente proprio perché c'era bisogno di trovare personale altamente specializzato e si capì che questi ITS come il nostro avevano una funzione fondamentale nel formare questi ragazzi. E sono strutture post diploma, quindi sono delle alternative per corsi universitari. Giusto per dare un'idea, un percorso universitario triennale è un EQF 6 nel quadro europeo delle qualifiche, una laurea magistrale è un EQF 7, mentre un diploma di maturità, quello che noi conosciamo come tale, è un EQF 4. Noi siamo esattamente il 5 e qui ci poniamo a metà strada tra il diploma di maturità e la laurea triennale. Nella sede di Fano i docenti saranno disponibili venerdì 25 settembre, dalle ore 16 in poi, per tutti gli appassionati di robotica, digitalizzazione e progettazione 3D. Il corso che inizia Fano è un corso di robotica, digitalizzazione e di competenze digitali, diciamo di progettazione 3D. È un nome strano, ma in realtà prepara una persona, un ragazzo, anche un adulto, per lavorare nelle tecnologie di oggi che sono richieste all'interno delle aziende. Oggi le aziende si stanno digitalizzando molto, il lavoro è cambiato tantissimo, si parla tanto di robotica, di automazione. Abbiamo paura dei robot perché rubano posti di lavoro, ma nel caso nostro i robot danno posti di lavoro perché sono tutte tecnologie che richiedono personale altamente qualificato. Formiamo e prepariamo circa 20-25 ragazzi l'anno, ma ce ne chiedono 100-150. Per noi è indispensabile far capire ai ragazzi quanto sia interessante questo lavoro, quanto sia moderno, quanto guarda al futuro e quale poi riscontro a livello occupazionale altissimo. Grazie a tutti.